Sì, chi è? Sono io, con le voci sole Ah, buonasera, buonasera ancora voi Buonasera Beh, grandi, grandi, grandi Noi siamo in un clima un po' particolare perché oggi è l'ultima puntata quindi, insomma, stiamo parlando di cose Eh, lo so, so tutto, so tutto lo so che pure in studio parlate di noir Del? Di noir Ma scusi, ma chi gliele ha detto? Eh, mi è arrivata una voce qui c'è qualcuno che sta la canta Ho capito, chi è? Chi è? Chi è se la canta? Eh, sto le voci sole, no? Ragazze, vi do il la, eh Pronte? La Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Bravissime Fate schifo, fate schifo Fate schifo Ma come fate schifo? Non avete preso il si bemolle Ma ci stava anche il si bemolle Ci sta benissimo Di Leo, la mala ordina Salite, venite, venite Venga anche lei Venga anche lei No, vabbè, venga dopo lei Va, venga dopo Stia lì, stia lì Grazie Grazie